Hello, qui ragazzi, benvenuti ragazzi sul Kattelig, oggi ragazzi appuntamenti incredibili, in quanto siamo con Nade e andremo ad usare la Twinser, nel 3v3 standard, ci vediamo in gioco. Oh mio Dio, siamo contro l'Inter. Oh, ciao. Ciao, Aschnick. Aschnick. Oh, che assi. Ho fatto un patto a lui. Prego, Messier. Vado io, Messier. Sì, potrebbe andare meglio, Messier. Tranquillo, Messier. Sì, sì, sono tranquillo. Mi sa che con sta macchina non sto tirare. Ma va bene così. Che è successo? Vado, vado. Non chiedermi cosa è successo, se poi lo skiffi. No, meglio skiffare un'automatica. Pur io quando faccio il bel gol. Oh, vediamo che è schifo. È il nostro? Un poco. Che rimbalzo bellissimo, ragazzi. E vabbè. Eccolo lì, ragazzo. Una spawn, una spawn, una spawn, una spawn. Sì, 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 sì. Vado io. Vai? Sì. Al centro, se non la tocca. Vado io? Nope. Vai. Non importa, nel dubbio. La missata. Al centro, se ci riaffè. Oh, io. Gli ho levato il busto, gli ho levato il busto. Sì, vabbè. Signori. Scusavo se lo avesse. Sì. E qui ho provato tutto il tempo a bamparlo, ma non ce la facevo. Sì, ha fatto il tiro della vita, cazzo. Va bene. Ok. Vai tu. Tutto a tua. Vado io? Al centro. Arriva, eh. Dammi un attimo. Arrivo. Mhm. Aspetto. Non ho neanche il busto, cazzo. Centro. Fuck. Uh. Oh. Ehm. Oh, come on. Ah, che cazzo, però. Questo è venuto addosso. Goal. Nah. Che goal. Io non ci arrivo. Eh, lui neanche. Goal. Dai, per scontato che quelli sanno tirare. Bravo. Eh, passivo lui. Eh, 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 eh. Dai. Questa Twinser non l'ho uso tipo da quattro mesi, ma... Madonna, mi sta laggando il server. Mi dicono che è uguale all'octane, ma no. Cioè, come aspetto, magari, ma... Ce la fai? Oh, ti sta laggando lo schermo. No, no, no. Ce la fai. Eh, un altro. Se ce la fai. Troppo dietro, sorry. No, io l'ho levato. Oh, shit. Ogni tanto mi dà qualche scattino. Non è che mi lagga... Sto al centro. Vado io? Vai? Yeah. Brabe. Nice pass. Non te l'ho potuta passare perché stava arrivando... Ah, no, ma qua l'è fottuto, quindi... Easy. Ve l'ho dovuta levare. Volevo provare un passaggio in pinch, però... Ne, 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 non esageriamo, ragazzo mio. Oh, shit. Ah, vabbè, ci provo. Stai fermo. Io... Ah, è in difficoltà quello, ok. Sì, io non ho busto. Il suo compagno sta arrivando in porta adesso. Che schifo. Devo trovare il modo per tirare bene con ste macchini. Non ci sa tirare, papà. Oh, shit. Dai, dai, stoppala. Ah, papà, volo. Prendimi. Oh, oh. No. Speravo arrivasse su di me. Ho già fatto un backflip per dropparle in porta. E' open se ce l'ha fatto. Sì, tranquillo, tranquillo. Praticamente c'era. Guarda dietro che mi inseguiva. Io ho lavato tre busti su tre. E ho scoppiato qua. Easy, bro. L'avevo già fatto, vai tranquillo. Vai, tu, da te. No, troppo, troppo. No, va bene, bellissimo. Quando tiltano, ci si può niente. Eh, è un tiro difficile, Nate. Guarda qua. Mamma, è potenza. Poi te lo spiego, Nate, dai. Poi te lo spiego. Poi te lo spiego. Poi spiegami con calma, così. Con calma, come il goal guard. Oh, mio Dio. No, siamo contro sto cazzo gaming. Ah, è un bel canale, comunque. Molto bello. Vediamo. Nice. Eh no, sto a prendere il busto, quindi... Tranquillo. Lui l'ha appena preso adesso il busto. Io non ce l'avevo. Shit. Questo è stato... Oh, grazie signor. Questo è stato tutto calcolato. Bravo. Tanto lui è hk. Stava raccogliendo i fichi. Ti ho detto che era tutto calcolato. Eh, questo è il passaggio. Easy bravo. Lo vuole sotto sopra. Azione più bella di questa non ce ne potevamo andare. Vai. Vai. Un po' forti. Siamo dalle bestie. Mmm. Non so che vorrei che il busto è buono. Usci. C'è quello. Attenuto, attenuto. Ti tanca. Appunto. Ma che mi tanca. Vai. Oh, volevo scoppiare. Calcolato, bro. Calcolato. Questi ci odiano. Guarda. Questi ci stanno reportando per l'hacking. Buono che per una volta che sono fortunato. Fammi va. Guarda, se ci bannano ci scrivo calcolato. Nel posto. Per caputene. Va bene, vado di cazzo. Torno, torno, torno. Attenuto. È incazzato lei. Va bene, va bene. Va bene. E che cazzo vado? Io ti ho detto. Oh, è bella quella. Me la sovviste. Uh, bravo. No, no, no. Qua è stato bravo. Non so se è stato culo. O la voleva toccare. Però è stato bravo. Se me è stato culo. Sì. Vorrei farti un flippo malissimo. Va bene, va bene, dai. Fa niente. Tu, da tu. No, meglio la sua che è più bello. Va bene. Allora, aspetta che torno indietro. Prendo il boost. Io levo il boost a lui. Lui si è un po' fregato le balle. Ah, va bene. Io sto qui, però, tranquillo. Guarda. Quello aspetta al centro. No, non l'aspetta più, non l'aspetta più. Vai, vai, vai. Non ho più boost. No, ha preso il boost. Ok, ce l'ho. Va bene, recupera con calma. Ce la fai al centro, piano piano? No. Ce l'ho. No, no, ce l'ho da lui. Sono in porta. Aspetta. Ah, percato. Se la mettevi in porta, era bello. Ah, no. Fuori. Peccato. Ho bumpato lui? Mi ha bumpato un altro? Sono stato stronzo. Sì, lo so. Me lo dicono in tanti. In tanti avversari. Non sono in porta. Va bene, va bene. Ora? Vado io. Bel dunk. Ce la fai? Vediamo. Ho spinto. Ok. Oh, oh. Non c'è lui. Sto già tornando, secondo me, vai. Te la metto al centro, se posso. No. Ti è spinto a me. State calmi. No, io non ti ho spinto. Ah, no? Mi è arrivata una turbina. Oh, cazzo. Non ho boost. Va bene. Sono in attacco io. Eh, ma... Senza boost. Eh, niente. Eh, pareggio. Eh, no. Devo tempo a reggiare, là. Perché era ovvio che non te la potevo passare. Eh, pensavo ce l'avesse il boost. Non sapevo. Lo so, butto troppo tardi. Andiamo un po'. Mmm, fare un port. Bella lì. Eh, vabbè. Andiamo a come la gestiscio. Sono al centro dietro. Se non ho tantissimo boost, quindi sto un po' cercando di provare la soluzione safe. Adesso ce l'ho il boost. Glielo il boost. Bello, quel tentativo di pinch. La metto di qua. Nice try. Eh, gliel'ho toccata per metterlo fuori posizione. Non vado. No, 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 no. Ah. Se l'hai tenuto, questo è la palla. C'è proprio. Eh, che schifo. Ma che è? Stravo di far saltare l'altro a caso. Fuori. La tirata fuori, tranquillo. Bella. Mmm, push. Va bene. Rimbalza. Sono al centro. Vedeva bella parata. Però bon drag. Sì. Non è vero perché c'è arrivato l'altro. E' fuori comunque. Tranquillo, tranquillo, era fuori. Sono in mezzo. No. Vado, vado, vado. Basta pararmela. Cazzo. No. 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 Ok. C'è uno che para tutto. Eh. Sono al centro. Però via. No, no, no. Oh, vai, vai, vai. Sì, sì, sì. Ok. Mi sembra che non era questo il portiere, sai. Eh, mi sembra che non se l'aspettavo perché qui ho fatto la finta e l'ho... Eh, vabbè, ha sbagliato Shackle, là, come cazzo si chiama sto cazzo. No, appunto la direzione è sbagliata, ho dovuto saltare e girarsi in aria. Eh, vabbè. Oh, buono. Ragazzi, con questa ultima partita abbiamo finito la partita di oggi. Sono state due partite fighe. Abbiamo giocato contro l'Inter e contro sto cazzo, un grande canale Twitch. Le abbiamo vinte tutte e due. Ci siamo stati degli errorini da parte mia per quanto riguarda l'attacco. Perché questa macchina non so tirare bene. Pur, comunque, essendo simile all'Octane, non mi ci sono trovato al meglio. Però comunque ce la siamo portato a casa. Io vi invito, ragazzi, a mettere un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale. Condividete il video, ragazzi, con le vostre nonne, amici, compagni, tutti quelli che volete che mi aiutate a crescere. Vi lascio il link di Nade in descrizione, nelle schede e a fine video, così da andare a vedere pure il suo canale. Che dire, ragazzi, vado in live ogni giorno su Twitch dalle 14 alle 17.30 e i dispari lunedì, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 21 anche alle 23-24. Quindi doppia live, vieni i dispari. Che dire, Razif su Instagram, metto una foto al giorno con varie storie. Bella. Che dire, ragazzi, vado in live ogni giorno con varie storie.